Allora, sono presenti Scariantino Vincenzo e Scariantino Rosario, si accomodi? Allora, vi potete porre alle spalle di Scariantino. Allora, diamo atto intanto che entra in aula Scariantino Vincenzo, le ricordo sempre che l'hai esaminato e senza l'articolo 210 ha diritto ad essere assistito da un difensore. Il suo difensore chi è? L'Avvocato Foresta, signor Presidente. Allora, diamo atto che è presente l'Avvocato Foresta, ora potrà dire tutto quello che è. Volevo dire prima di fare il confronto con mio fratello, ho delle dichiarazioni da fare. Questo le potrà fare nel corso del confronto. Già è generalizzato, le ricordo sempre che lei è sotto il vincolo dell'impegno che ha letto in aula. Siccome sono presenti dei operatori, non riprendete giri, subito l'obiettivo verso... Lei vuole essere ripreso, ha delle richieste da fare, preferisce non essere ripreso dalle videocamere? Non ha richieste da fare. Allora, potete attivare anche i vostri strumenti. E allora, possiamo dare inizio al confronto? Lei non può fare per ora delle dichiarazioni perché non è... No, scusate il paravento della polizia di qua perché è un problema del paravento. E allora, togliamo il... potete allontanarvi. L'argomento di contrasto è abbastanza semplice. Lei ha sostenuto che suo fratello, Scarantino Vincenzo, in qualche incontro che avete avuto successivamente alla sua decisione di collaborare con la giustizia, le avrebbe confidato, rivelato di non essere a conoscenza di nulla in ordine alla strage e che non era vero niente di quello che aveva. Lei lo conferma questo? Quando è avvenuto? Io e la mia ragazza come ce l'era? Siccome abbiamo avuto un sacco di incontri, fino a quest'anno, all'anno scorso, abbiamo avuto un sacco di incontri. E' vero che raccontava tutte queste cose. Tutte queste cose? Cosa? Quello che ho detto prima. E lo ripeto in questo momento, anche per farlo conoscere. Che lui non sapeva niente di questo fatto qua, che era inocente e... Quindi che non sapeva nulla della strage? Nulla della strage, non sapeva nulla della strage. Dice che i brevi lo sono inocente. Va bene. E allora, Scarantino, ha ascoltato quello che ha detto suo fratello, ora può dire quello che deve... Sì, signor Presidente è vero. L'incontro, il primo incontro che ho fatto con mio fratello, è stato a febbraio, quando sono stato screcciato. Io sono stato screcciato a gennaio. Dopo, non ricordo se è stato fino a gennaio o nei primi di febbraio, l'incontro che ho avuto con mio fratello. Io ero distrutto. Che a me mi hanno infamato. E se io ho fatto questo, questo passo, che se io ero colpevole, io a quest'ora avessi una fortuna. Avrei una fortuna se io fossi colpevo. Io andavo a spogliarmi con mio fratello. Io, fino a poco fa, parlai con l'avvocato Foresta. Ero un collaboratore. Però, prima di questo, voglio dire una cosa. Che io ho firmato, dodici fogli in bianco, all'avvocato Foresta. Io non è che ho spiducio all'avvocato Foresta. La mia paura è, se l'avvocato Foresta li darà e a me. Mi faranno fare la fine di gioia, come mi ha detto Andreotta. Se l'avvocato Foresta, quando sarà, li prenderà e li strapperà, qua, nella corte. Che io, di queste foglie, ho paura. Il mio presente discorso è questo. Io mi hanno arrestato il 26 settembre del 92. Mi portai a San Catardo. E ho avuto l'interrogatore a San Catardo. Dopo tre giorni, io facevo il pazzo a San Catardo, che dopo accusai al direttore del carcere di San Catardo. Dopo mi portano a Venezia. A Venezia arrivai sabato, o mercoledì, non ricordo quando sono arrivato. Mi chiama il comandante e mi fa scendere giù. Dici, Scherantino, di oggi in poi, lei in isolamento non c'è più. Lei, diciamo, è un detenuto normato, senza isolamento. Va bene. L'indomani, se ricordo male, o la sera, entrò Peppino Vincenzo. Peppino Vincenzo. Peppino Vincenzo. E io, già, ero sciopero dalla fame. Questo Peppino Vincenzo arriva con i sacchietti di cioccolate, caramelle, biscotti. E mi ha detto, chi è, chi sei? Tu, se stanno a me, mi imputano la strage per dottor Bossellino, deviata a me. Se stanno a me, io sono innocente, io non so niente. Insomma, e questo Peppino Vincenzo è un confidente del dottor La Barbera. Questo Peppino Vincenzo. Io, con questo, non avevo discorso. Avevamo sempre discorsi. Che io, mia moglie non può venire a quel luogo. Mia moglie e i miei figli sanno puzzando di fame. E dopo i giorni mi arrivò una lettera di mia moglie. Questa lettera a me mi ha fatto emozionare tanto, perché mi sono messo a piangere. Non è vergogno, perché non mi vergogno a dire che piango. E io non sapevo leggere bene. Questo ha letto una lettera. Poverino, si è emozionato pure. E mi ha scritto una lettera per io poterla scrivere a mia moglie. E io gli ho risposto a questa lettera. Dopo questo mi fa chiedere i discorsi dopo la lettera. Qui c'era Contorno. Servatore Contorno. Era il padrone del carcere. Qui, quando ha collaborato, è sceso giù nelle cose di là. E a me queste cose non mi interessavano. Ma questi erano tutti i discorsi con Peppino e Vincenzo. Mi portano a Bussassizio. Mi salgono sopra a Bussassizio, a primo piano o a secondo piano, non ricordo. E mi mettono in compagnia. Mentre in compagnia. Mi portano in cella. E mi hanno invitato a mangiare i ragazzi che erano nella cella. C'era un ragazzo che doveva uscire da poco, doveva fare poco. Uno che si aspettava la fortuna, che aveva 27 anni di carcere da scontare. Comincio a dire, io se colpevo, se colpevo, se colpevo. Fortuna cosa che io ho fatto aprire la cella e me lo sono andato nella mia cella. Dopo due giorni, dopo due giorni, mi hanno fatto scendere all'isolamento. E' un obiettivo di Bussassizio. E' un obiettivo. Io ho paura. Io avrei paura. No, di quelle che io ho. Paura perché mi hanno fatto mente troppo suggezione. Vado all'isolamento e faccio un telegramma a mio fratello Domenico. Faccio un telegramma a mio fratello Domenico. Mimmo parla con l'avvocato perché io qua mi scanto. E che qua ho paura. Che mi scendero nell'obiettivo. Ero un obiettivo. Questo telegramma non so se è arrivato o non è arrivato. Non lo so. E, insomma, mi abituai. E sono stato cinque mesi, sei mesi da solo. Che mi aveva interrogato la dottoressa Boccassini. E aveva mandato, che c'era il ministro Martelli. Che io dovevo stare da solo. Da solo. Solo, solo, solo. Sono stato cinque mesi, sei mesi. Dovevo andare in bagno e c'era la guardia. Dovevo mangiare e c'era la guardia. Sempre presente. Sempre presente. Dopo cinque mesi, sei mesi, comincia a riempirsi il carcere, l'isolamento, l'obiettorio. Si cominciò a riempirsi l'obiettorio. Ed erano trogate, madre di esse, pentiti, Caravello Roberto, collaboratore di giustizia. Giovanni Trago, collaboratore di giustizia che mi ha detto che si chiamava Antonino Carollo. Questo il collaboratore di giustizia, Franco Andreotta. Dopo è intervenuto lui. Roberto Rombolaro, che questo pure aspettavano le stelle che cadevano, per la fortuna. Che aveva vent'anni, venticinque anni. E questo mi raccontò che sua moglie l'ha lasciato e l'ha abbandonato. Che aveva ventisette anni e l'ha abbandonato. E a me mi faceva pena. Io davo a mangiare a tutti. Davo a mangiare a tutto quello che c'era. Io cucinavo. E io lo passavo. Questa è la mia sportuna. Tutto l'inizio, tutto l'inizio, quando io ero a Bussassizio, sono andato nel dentista. Sono andato nel dentista per farmi togliere la mola. Mi toglie la mola. Prendi il cotone, sporco di sangue, che ne porta cenere. Non è che c'è quello con il mercuro cromo. C'era in questa città dove si buttava questa spazzatura. Il dentista prende questo cotone e me lo mette nella mola. Me lo mette nella mola. Dopo tempo mi faccio l'esame di sangue e mi escono patite verali, positivo, negativo. Perché? Perché io chiedevo le pastiglie per me di testa e mi davano l'antibiotico. Mi facevano delle inclocine, che sono antibiotico. Bussassizio, non dico niente. C'era Sancomelone, che era un marasciallo della polizia penitenziaria, che è stato arrestato per il fatto che dava i cellulare e detenuta. E questo mi ha detto, dice, Enzo, se c'è Fran, nella cellula, dici, stai attento, dici, che per te faranno la qualsiasi cosa. Dici, come la qualsiasi cosa? Dici, faranno la qualsiasi cosa. Tutto quello che ti possono fare, ti fanno. Vabbè, fanno, io sono innocente. Se mi ammazzano, non c'è un demore. Viene Andreotta dopo, dice, lo sai. Dici, qua gli hanno ammazzato. Dici, ha uno. Dici, ha ucciso il prete. Questa Andreotta mi ha detto. Dici, sai come l'hanno ammazzato? Gli hanno sbattuto la testa al muro. Dici, no, gli hanno preso il cibollito. La carne. Dici, glielo hanno messo in bocca. L'hanno fatto, come si dice, l'hanno fatto soffocare. Se mi è vero. Dici, sta attento pure per te. Perché c'è gioia. Dici, ammazzare i guai. Se sarà bello. L'hanno ammazzato i guai non si vede nei libidi. No. Che loro, i guai picchiano. Picchiano e rompendo un frigorifero. Lo fanno ghiacciare. Prendono le seringhe. Gli diranno la madonna. Gli hanno messo perché sono imputato per una cosa. E gli dice, quando deve venire al colloquio. Vabbè. Lui l'ha scritto. E dopo arrivava il telegramma che mi diceva che a tale giorno arriva mia moglie. Però io gli facevo telefonare la mia moglie. A casa di mia madre. Che il telefono di mia madre era collegato con la squadra mobile. Era collegato con la squadra mobile. Quando alzava la cornetta mia madre, la squadra mobile l'alzava pure. E gli facevo telefonare sempre. Perché non avevamo niente da nascondere. Sui amici c'è la guai di fare il telegramma. Ci diceva lì per spegnere il telegramma. E arriva Giovanni Vecchio. C'era Giovanni Vecchio. Dice questo di Bussassizio. E questo ragazzo sicuramente aveva pure che era innocente. Che l'aveva computato per violenza carnale e tutte queste cose. A me feceva pena. Non è che non mi interessa niente. Non è che. Come io fecevo il colloquio una volta al mese. C'è la volta una volta pure un mese e mezzo. Questo Giovanni Vecchio mi diceva. Guarda Vincenzo dice se tu hai bisogno del fare pulire le lenzuola. Dice me li dai a me che io gli riesco a mia zia. E mia zia me li lavo e te li faccio portare puliti. Va bene. Gli ho dato questa lenzuola. E l'indomani hanno tospedito a Giovanni Vecchio. L'indomani Androtto va a fare un colloquio con il prete. Del caccio di Bussassizio. Che si chiama, non mi sbaglio, Dottobbo. Lui diceva che era il prete. E ha fatto quattro ore di colloquio con questo prete. Beh, è venuto la felice, felice, felice. Ma se vuoi azzurre con il prete. E lui diceva, Vincenzo, fai un po' di caffè. Va bene. Gli avevo la caffettiera. Lui era ricco, dopo diventò povero. Gli ho fatto il caffè, glielo buttavo con la bottiglia. E un altro giorno arriva. E, e, canto, canto. Che fece? Pianceva. Noi eravamo all'aria. All'aria. Pianto. Ma sai, che c'hai? E io gli dico. Che c'hai? e un puttano che mi manda che mi roba e gioca l'eroina a fare tutte queste cose dice se l'eroina non si è accusato di amicidio e chi vuole un puttano che mi manda che mi roba un bastardo un figlio di questo un figlio di quello a fare e dopo il giorno arriva il suo esperimento ora quando un detenuto sta per partire uno gli dice auguri, ciao, stati bene lui è venuto nella mia cellula mi ha dato la mano si dice ma che c'è, ti fa male il polso così, ma va bene, vai l'indomani la sera si vede in movimento nell'obiettore di Bussassiz tutte le guardie hanno fatto credere questa collaborazione tutti che correvano prendi, chiudi le porte chiudi l'infermeria chiudi quello chiudi quello si ma che c'è se arrivare il terrorista io dicevo così sempre per parlare la meccaccia si che c'è, che c'è, che c'è e il mangiare prima lo portavano a me perché avevano paura che diciamo che fosse ammelenato quella sera dice no, 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 prima quello prima quello il mangiare si va bene se mi avevo mano per una nuova seconda ci sento più piacere il 22 settembre mi portano a Pianosa il 22 settembre arrivo a Pianosa boom, boom passate questo passate beh se ci sono se ci siamo c'è una fuga mezzanotte è un'icaccia fudda vabbè questo a me non mi fanno niente perché non mi fanno niente mi portano in cielo boom, boom, boom un brindato chiuso ah, questo che è bello magari avrò un brindato chiuso ho detto nella cielo arriva la sera 1 tu come ti chiami? Scalantino Cidomenico no Vincenzo si vincenza Domenico può essere una fatale età mio fratello si chiama Domenico ma dopo dopo 40 giorni che mi fanno buttare il sangue di tutti i buchi sono sceso a Palermo no un minuto chiedo scusa dopo giorni dopo giorni a Pianosa mi devono contestare il 41 bis siccome io sono un ignorante che non so leggere non so leggere bene non so scrivere bene il comandante io mi addormentavo alle 9 di sera perché avevo trovato la tranquillità mi addormentavo alle 9 di sera e mi svegliavo alle 7 viene vengono le guardie a mezza notte che già io dormivo mi vengono a prendere 6, 7, 8 non ricordo e mi portano nel comandante dice è arrivato il 41 bis il 41 bis così era erano delle dichiarazioni così no ci sia un filmoneante io mi afri la legge io non filmo niente ma beh che fai il 41 bis non è che ha importanza pure che non lo filma no io non filmo niente va bene non lo vuoi filmare non lo filmare non lo filmare e mi portano in cielo mi portano in cielo la settimana la settimana la settimana la devo vedere tutto e dico mi chiede mi chiede io devo filmare quando non ho visto mi chiede perché non c'è bisogno più dice per tanto e dico no ma io voglio filmare mi portano il comandante della pianosa e vedo quattro fogli c'è l'altro blocco dov'è di quale altro blocco c'è se ci andava tanto no 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 va bene e già cominciare ad avere più paura e sentivo un certo favarolo che gridava sono favarolo voglio parlare con l'autorità questo gridava che voleva parlare con l'autorità io ero nella punta e lui era nell'altra celle l'ultima celle sempre nell'isolamento che erano le celle del transito sentivo gridare a questo piangeva come un matto io pure però scusate e che voleva parlare con l'autorità c'era un marasciallo grosso lungo qualche mezzo 83 84 con un neo qua un neo qua che gli diceva cosa gli devi dire all'autorità che gli devi dire all'autorità che gli devi dire all'autorità voglio parlare con l'autorità io qua io qua sto morendo di qua di là che gli devi dire all'autorità dimmela a me prima ma e io questo inghia maschino e già io non fumavo però mi hanno lasciato 12 giorni senza fumare e non mi ha fatto nessuna impressione c'era un certo rombolaro carmelo rombolaro no bombolaro carmelo bombolaro che erano pieni di questa cella e lui in un'altra cella e questo si lamentava che non gli arrivava posta non gli arrivava voglia che non gli facevano fare il colloquio tutte queste cose io quando vedevo perché i miei amici vennero isolato da tutte dopo tempo sono sceso a Palermo dopo 40 giorni e non sono indimenticabili questi 40 giorni che ho presente scendo a Termine Merese scrivo una lettera e la metto nel cuscino della nave dove mi sono imbarcato io ma questa lettera non l'ha trovato nessuno l'hanno trovato solo i carabinieri che quando sono uscito io quando sono uscito io hanno perquisito i coccetti e avevo scritto nelle parete nel del del bagno se a me mi ammazzeranno è il dottor la barbara se io farò il bugiardo è perché a me mi vogliono ammazzare lo scrivevo sempre nell'eco mi portano a Palermo a Termine Merese e dopo vado a fare mi sembra che l'udienza preliminare l'udienza preliminare o se mi sbaglio il processo della droga di nove anni di nove anni vado mi sembra che sta da marzo no settembre ottobre insomma ho fatto uno dei due processi una l'udienza per questo del stesso periodo ma vado a processo e viene il collaboratore di giustizia a Ugello e quello trocato con la barba a me non votavano che io gli davo la droga nel 92 in poi con mio fratello Alberto nel 92 in poi io io ho detto la verità davanti a Andrea ma come mai come mai che il mio fratello Alberto l'hanno arrestato nel 91 a settembre come mai che io gli ho dato la droga assieme con mio fratello fine nel 92 il giorno prima del mio arresto ora io che ho detto che io quando mi hanno arrestato avevo un milione e 350 milioni di lire in tasca che sono andato a prenderle da quelle che mi vendevano le sigarette e le avevo in tasca ora 10 grammi di droga quanto si vendeva? un milione e 4 un milione e 3 io la vendevo la droga non è che non la vendevo ne vendevo tanta a un gelo glielo glielo la davo io 3-4 grammi 5 grammi 10 grammi però dopo ho detto che glielo ne davo un quartichilo alla settimana ma dal processo è spunta spunta fino nel 92 giorno prima che mi arrestassero mi hanno contestato io chiamo all'avvocato Pedrone io voglio fare il confronto con questo uccello diceva vediamo vediamo questo confronto non si è fatto dobbiamo fermarci perché si è disattivato un collegamento no per ora è fermo un riquadro ecco può proseguire imputa questi 150 grammi di droga si hanno sospeso il presidente è entrato e gli ha detto al collaboratore di giustizia dice venga nel mio ufficio e l'ha portato nel suo ufficio va bene va bene io dicevo esco e esce a Ugello dopo esce il presidente e si segue il processo mio fratello innocente mio fratello con me non ci ha lavorato mai se lavora mio fratello lavorava mio fratello con la droga per i fatti suoi ma con me con la droga non ce l'ho lavato mai io lavoravo con la droga e con le sigarette vabbè 9 anni e mezzo ho preso a me e 9 anni e mezzo il mio fratello va bene e sono per associazione ho preso 9 anni e mezzo per associazione io mio fratello è uno che non si conosce non lo sanno identificare che dopo lo spiego io non lo posso non lo posso non lo posso identificare me ne vado a termine me ne tranquillo è come avessi bevuto un bicchiere d'acqua perché io ero innocente e mi hanno dato la condanna perché è stato ucciso il dottor Bossellino lissamente per farmela pagare a me mi hanno dato i 9 anni e mezzo mi hanno consumato tutti i miei fratelli che sono arrivati processi di droga processi di droga processi di droga quel periodo prima a luglio hanno arrestato mio fratello Rosario mio fratello Rosario un altro arresto per via D'Amelio sì io l'ho fatto leggere a quell'androtta dice hanno arrestato il tuo fratello dice passaggi via D'Amelio ma vabbè perché già avevano arrestato il mio cognato profeta che non si sapeva chiedere il collaboratore di giustizia che l'avevano fatto arrestare però Angiotto l'ha accusato e a me mi stanno fanno fermare le dichiarazioni a Pianosa no signor Presidente a Pianosa è tutto registrato non è che scappa niente tutto registrato specialmente quando si parla con il comandante o con il direttore tutto registrato vado a termine mi rese e dopo mi portano a Pianosa ho detto una Pianosa tranquillo 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 e cominciava a dare squilibrio squilibrio di collaborare sul serio di dire la verità se dottor la barbara io voglio dire la verità io sono all'attezza di fare arrestare su questi pali diciamo pari diciamo dice è l'omicidio e se no questo è l'omicidio non lo so non ne conosco l'omicidio no allora c'è lui c'è un interesse con il dottor la barbara se una roba non c'è interesse e me la vado prima però era venuto il dottor e me la vado prima di questo dottor la barbara era venuto il dottor io non faccio niente io sono innocente io ne faccio mai niente ci ha detto il dottor la barbara che era veramente innocente era la saggia del dottor bosselino io rubavo io spacciavo io facciavo tutto l'omicidio e delle cose niente e poi ho fatto 4-5 incontri con il dottor la barbara e con il dottor dice scarantino dici dimmi una cosa quando ne sono rimasti fuori c'è sto l'uomo c'è c'è mia madre c'è mia sore c'è la mia sore no 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 mi chiede mascole c'è rimasto mio cugnato angelo che ho mai di misura c'è mia cugnato rosario c'è va bene va bene va bene dopo un altro incontro io parlo l'omicidio dopo che io sono salito di termine medesia la seconda volta che avevo fatto l'udienza per esempio a marzo l'udienza a cartanissetta questa è per la strage del dottor Bossellino e io quel periodo mi prendevo il giornale qui a termine medese e c'era scritto un articolo di giornale perché me ne andavo troppo via di giornale c'era scritto un articolo di giornale arrestato un latetante che gli imputano dieci omicidi in via Scalantino in via Scalantino dieci omicidi signor signor presidente nella strage del dottor Bossellino erano cinque cinque io mi accuso dell'omicidio Bonanno sono sei dell'omicidio Amato sono sette dell'omicidio Lombardo sono otto dell'omicidio del Santino Lucera e dell'omicidio del Luigi Lucera sono dieci no io l'ho messo né uno in più e né uno in meno però questo discorso dell'omicidio di Lucera io ero fuori io ero fuori e viene Mimma Lucera viene Mimma Lucera dice eh si c'era mi dice di ciccato si chi è me io questo picciotto mi aspettavo un suono che siamo cresciuti nella borgata io gli voglio bene lo rispettavo mi rispettavo che era una borgata dice Enzo dice mi chiamo ora ci vuole pure la Spadamombola e ce la vai bella e sai che mi dice si attento che dopo lo farò lo cuore lo accoste perché è comenta che ci ammazzate ammazzate e ammazzate ma ma Mimma tu mi fai una cosa chi sa vabbè chi ti dice non sa che c'era un putore prima prima c'era un putore a Franco con il suo sguizzo e chi sa mi chiede però diciamo io un anno prima un anno prima con Lucera Luigi ho avuto una rissa alla Guadagna abbiamo litigato e lo sapevano tutti lo sapevano tutti lo sapevano che era il Duciraro che era un confidenza del Dottor La Barbera questo Duciraro ma io ho avuto la rissa non è che l'avevo ammazzato sai c'è stato questo che l'avevo ammazzato l'avevo ammazzato e ho colato dieci omicidi cinque dell'assaggio e cinque della Guadagna dopo se ne era pianosa viene il Dottor Bo mi vengono a prendere che si dice io qua lì là io voglio collaborare ci diceva io patoga patoga e non ci interessava manco si è chiuso pure questo incontro perché un giorno di questo io stavo male stavo male che a mia mamma mi hanno distrutto dentro dentro perché l'unica l'unica persona per me diciamo lasciamo stare i miei mia madre è mia moglie che è una vita e io ero geloso pure dell'aria che respirava di tutte cose e mi dicevano che mia moglie veniva a Piombino dice i mari di una liera dice i mugliere e hanno fatto il gesto che mia moglie se la facesse la Piombino beh tutte queste cose mi davano a mangiare mi davano a mangiare però usavano i piattini di plastica così così i piattini di plastica così un pochettino fondi portavano in minestrone con i guttolas guttolas e Santa Nicola quelle sono le cucinelle quelle rosse tutte timbiate nere i verme quelli per andare a pescare i pesci quelli lunghi peli non capelli non lo so se erano di qua o di qualche altra parte del petto o di qualche altra parte io prendere e mangiare e lo buttavo prendere e mangiare e lo buttavo una volta arrivò con un pozzetto di un gelato visto l'assistente dice tu sei danno il corredore dice qua a pesciare dice qua a pesciare ora io io ero proprio diciamo davanti nelle sbarri perché la guardia è andata ad attire dice devi andare a pesciare devi andare a pesciare dice pisciaci poi io andavo all'idea su atto pisciaci mangio la pasta diciamo la pasta il brodo che la pasta poteva essere 5 6 pezzettine di pasta assai salita mi sono andata a mangiare e chi aveva il cavallo io proprio ero diventato proprio un essere umano proprio per occupare la monnezza e ho detto voglio collaborare di che cosa c'è strage amicida tutto questo cosa c'è questa guai da monene non è però il direttore c'è si vuole collaborare e arriva il dottor la barbara la dottoressa boccassine e l'avvocato luigi licotte l'avvocato luigi licotte e la dottoressa boccassine non c'era io ho visto quel momento a dottore la barbara se si voglia collaborare chi va bene che vedi che la collaborazione è una cosa seria ma io signor io voglio collaborare io faccio io saccio io perché dice tu sai eh rina se si fa pendito rina l'uomano che può succedere sa beh qui ce l'ha lavata la rina o prima ciò io non ti preoccupare che sarà poco in carcere sei mesi cinque mesi sette mesi quattro mesi non è stato vero questo ci parla di città duecento milioni per tu potrete diciamo comprare tutte le cose ciò due periodi chissà diciamo se no non mi interessa mi piace e poi va bene va bene io tra la dottoressa Boccassini e l'avvocato Luigi Licotta e gli faccio questo discorso all'avvocato Luigi Licotta subito la smentita non è vero niente non è vero niente si ferma perché c'è un'interruzione al collegamento sta rendendo delle dichiarazioni che esulano anche dai motivi di contrasto io chiederei che intanto il test venga allontanato perché ripeto si sta anche parlando e le ragioni non le posso esplicitare in questo momento però ritengo che siccome stiamo parlando meglio l'imputato di reato connesso sta parlando di tanti argomenti anche esulanti i motivi del contrasto il test venga allontanato in realtà si tratta no non è ammissibile l'atto che stiamo compiendo è un atto di confronto e non può avvenire separatamente piuttosto siccome gli argomenti di contrasto riguardavano soltanto un punto specifico lei esponga sinteticamente perché lei non ha la posizione di imputato in questo procedimento e quindi non può rendere dichiarazioni spontanee vedranno le parti eventualmente se chiedere un altro tipo di atto perché in sede di esame potrebbe essere poste domande e si aprirebbe la facoltà per le parti di porre domande svolgere esami contro esami e quant'altro prevede la legge presentemi perdoni aspetta a me l'avvocato fazzoni lei non è stato io ho presentato i motivi d'appello scarantino se lei parla quando io non le do la parola la devo fare allontanare presentemi io ritengo invece che siamo ancora nell'ambito del confronto perché proprio richiamato i due soggetti sui motivi e il contrasto lo scarantino ha detto sì è vero e sta spiegando perché è vero il discorso che ha fatto al fratello è partito a lontano quindi sarebbe opportuno diciamo che completi questo suo discorso siamo nell'ambito sempre del confronto non è esatto avvocato nel momento in cui cessa la ragione del confronto si può accedere eventualmente a un altro un diverso tipo di atto istruttorio ma non più al confronto che non sarebbe una garanzia sufficiente per le parti che non hanno la possibilità di svolgere adeguatamente un esame e un controesame quindi dobbiamo avviarci sinteticamente è vero quello che ha detto suo fratello o non è vero sì va bene allora se le parti hanno da evidenziare altri punti o se hanno delle richieste istruttorie sul punto eh signor Presidente io avevo presentato i motivi d'appello dei 18 anni l'avvocato Fazzone non mi ha presentato i motivi d'appello perché la corte qui avrei più credibilità sendo che io mi sono assunto la mia responsabilità con 18 anni e mi cavo definitivo questo è il discorso pure vabbè ci sono altri punti di contrasto che vogliono evidenziare le parti che non sono state evidenziate e allora come abbiamo atto che Scarantino Vincenzo afferma che è vero quanto indicato dal fratello il presidente dispone all'allontanamento di entrambi i soggetti ora se ci sono richieste potete appartare i soggetti eh signor Presidente io ho paura andare là dentro e dove vuole andare perché io voglio andare pure in caccia e poi si vedrà dove dovrà andare attualmente i carabinieri lo prendono in consegna e lo appartino come un test qualunque vabbè ma ringrazio e lo stesso dovrà essere fatto attualmente prima che i difensori svolgano le loro richieste appartate entrambi i soggetti esaminati come confronto è cessato attendo eventuali richieste delle parti anche insieme Presidente a me pare che la nostra richiesta sia del tutto ovvia se non doverosa lo scadandino ha introdotto alcuni temi che i difensori che le parti di questo processo non conoscevano al momento della formulazione delle proprie discolpe mi pare è opportuno soprattutto ai fini di giustizia a prescindere da qualche strettoia processuale che potrebbe anche appalesarsi che si riacorso immediatamente e questa è la richiesta che facciamo all'esame del test sia ex articolo del imputato del lato connesso sia ex articolo 493 terzo com che è articolo 507 si tratta di fatti molto più evidenti di quelli per cui ieri si è progetto all'esame di Brusca sono cose che sono venute direttamente a conoscenza della Corte quindi riteniamo ortodosso la decisione di concludere il confronto perché non c'erano più ulteriori motivi di contrasto ma mi pare la ragione è un'altra perché il confronto come strumento tecnico non garantisce adeguatamente l'iniziativa delle parti l'ho perfettamente apprezzato Presidente e quindi noi chiediamo che si proceda immediatamente all'esame ex articolo 493 terzo com ma in subordine ex articolo 507 gli altri difensori si associano a me pubblico ministero sì Presidente chiaramente anche questo ufficio chiede non si associa ma chiede l'esame di Scarantino Vincenzo esteso a questo punto a tutto quello che ha formato oggetto delle sue precedenti deposizioni quindi chiaramente strage di via d'amelio in particolare ma anche sue conoscenze di altri delitti riconducibili all'attività di Cosa Nostra noi però chiediamo anche e chiediamo che questa attività venga fatta prima dell'esame ulteriore di Scarantino l'esame testimoniale di alcuni soggetti sono degli ufficiali di polizia giudiziaria sono emersi nel corso di attività di indagine finalizzata ad altri motivi all'accertamento di altri reati diciamo intanto dei discorsi finalizzati ad una eventuale ritrattazione di Scarantino Vincenzo in questo processo ci sono state delle indagini e ci sono delle indagini in corso che a questo punto visto che la ritrattazione è avvenuta nella maniera così evidente così come si è palesata proprio dal primo momento in cui Scarantino è venuto in quest'aula e si è seduto di fronte alla Corte a questo punto siccome noi vogliamo che la Corte sia messa nella possibilità di conoscere veramente tutto qui non c'è nessun tentativo di orientare il processo in maniera arbitraria in un verso piuttosto nell'altro in un verso in un verso Grazie.